Tre sono i nuovi casi registrati oggi in Abruzzo, due nella ASL Lanciano-Vastochieti e uno in quella di Peschiara. Un dato che continua a far rimanere la percentuale giornaliera rispetto al numero dei tamponi processati nell'ambito dei decimali. Sono 1.276 infatti i test di cui è stato conosciuto il risponso e le tre positività riconsegnano un incremento dello 0,2%. Sono 7 i pazienti meno in terapia non intensiva che arrivano a 142, 3 quelli in terapia intensiva, un numero invariato rispetto a ieri. Mentre sono 764 le persone in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. La buona notizia è la mancanza rispetto alla giornata di ieri di nuovi decessi che rimangono così a quota 400. Mentre gli attualmente positivi, calcolati sottraendo al totale il numero dei dimessi guariti e dei deceduti, sono 909 con una diminuzione di 137 unità. Dall'inizio dell'emergenza nella nostra regione sono stati registrati 3.230 casi positivi al Covid-19 che sono così ripartiti. 246 nella ASL Avezzano-Subbona-L'Aquila, 819 nella ASL Lanciano-Vastocchieti, 1.513 nella ASL di Pescara e 652 nella ASL di Teramo.